Nel video precedente siamo andati a Shibuya. Shibuya è un quartiere molto importante di Tokyo. A Shibuya possiamo trovare l'attraversamento più affollato del mondo, la Yakuza e la statua di Hachiko. Quando è venuta sera siamo andati a mangiare la carne di Kobe, una carne molto costosa ma anche molto buona. Abbiamo mangiato e speso, speso, mangiato, mangiato, speso, speso, speso. Poi abbiamo girato Shibuya di notte e siamo andati alle sale giochi. Poi siamo tornati in hotel. Fine. Durante l'ultima giornata a Tokyo siamo andati al mercato del pesce. Sono molti tipi di tè verde. Guarda, quelle belle quelle confezioni. Magari quella è la pesca. Il mercato ittico all'ingrosso di Tokyo si trova nel distretto di Suiji ed è stato il più grande mercato del pesce del mondo. Nelle vicinanze del mercato si trovano molti ristorantini specializzati in sushi. Si dice che in alcuni di questi si possa mangiare il miglior sushi del mondo. Subito dopo siamo andati al parco di Ueno. Nelle vicinanze del mercato di Ueno. Il parco di Ueno è uno spazioso parco pubblico situato nella zona appunto di Ueno. Il parco e le sue attrazioni hanno attirato oltre 10 milioni di visitatori l'anno. Rendendolo uno dei parchi cittadini più grandi del Giappone. Il parco di Ueno è uno spazioso parco pubblico situato nella zona appunto di Ueno. Dopo aver visitato il parco di Ueno siamo andati al Tokyo Dome. Le attrazioni principali che si possono trovare dentro questo centro commerciale al centro di Tokyo sono le montagne russe che abbiamo provato e una specie di percorso acquatico. e mentre comincia a farsi sera decidiamo di andare a mangiare per la seconda volta il ramen. e durante l'ultima sera in Giappone abbiamo deciso di terminare la vacanza con un bel karaoke. in Giappone 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 Florsese in Giappone in Giappone in Giappone in Giappone E' una gran buona gioia, e sperimentate solo a me E' la sua paura è tanta specialità con me Aspettate, 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 salutate tutti!